ciao video sugli integratori alimentari che aiutano chi è a dieta tutti i prodotti che ti sto per mostrare non hanno alcun tipo di controindicazione quindi faccio questo video a cuore leggero i prodotti con controindicazioni non vengono nominati perché io utilizzo altri integratori che però è meglio non consigliare a chiunque perché magari non tutti fanno analisi come le posso fare io per cui vado a botta sicura allora comincio subito con un'azienda che si chiama zuccheri che mi ha omaggiato di questi prodotti e non solo super ananas slim eccezionale super ananas anche lui è eccezionale però non mi fa gasare quanto mi fa gasare il super ananas slim allora io ti devo dire che io sto adrenaggio dei liquidi io non so che c'è dentro mi interessa è favoloso ragazzi allora io io veramente mi hanno tutti e due mi hanno aiutato tantissimo soprattutto quando io una decina di giorni fa ho avuto un problema di ritenzione idrica fortissima e avevo interrotto il ciclo di super ananas ho ricominciato a prendere super ananas e mi hanno risolto il problema sicuramente anche il clima che è cambiato infiniva molto su questa ritenzione idrica però super ananas mi ha molto aiutato ti faccio vedere come si presenta ti presenta in queste bustine che vanno di litro in un bicchiere d'acqua io le di uniscono un bicchiere d'acqua molto molto grande quello con il barattolo con la cannozza perché a mio parere è un po troppo dolce ma questo è un mio è un mio gusto non c'entra niente questi due prodotti io li valuto molto 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 validi assolutamente sì li consiglio sì li comprerò sì però finisco questo mi è stato regalato ma lo vado a comprare eccezionale veramente altro prodotto di zuccheri che io consiglio per chi è a dieta è questo è super coffee super coffee allora chi è a dieta dovrebbe sapere che per aiutare il metabolismo la caffeina aiuta tanto caffeina e teina aiutano tanto tanto che per esempio si consiglia a chi ha a dieta di consumare il tè verde sia perché il tè verde proprio il tè verde in particolar modo ha delle proprietà ma perché contiene anche la teina teina e caffeina aiutano molto chi ha a dieta io bevo tanto caffè ma lo bevo tanto da sieraconda ero piccolina in questo mi viene in aiuto perché io ti dico sì a super coffee perché super coffee rispetto al caffè normale quello della moco il caffè lungo della mia amatissima dolce gusto con le capsule intanto contiene pure ginseng e quindi il sapore buono secondo poi a me non fa bruciare lo stomaco e allora se sei a dieta e bisogno di qualche cosa che ti aiuti nel metabolismo il caffè aiuta il caffè semplice aiuta se hai problemi di bruciore di stomaco come può essere il mio problema un prodotto come questo è un prodotto archivalido a me erano stati regalati al cosmo proprio quando mi sono avvicinata una serie di prodotti io li ho provati tutti quanti e non tutti per me vale valgono tutto questo entusiasmo eppure giusto che io dica queste ringrazio zuccheri soprattutto perché mi dà molta libertà di espressione di parola e non è una cosa scontata super coffee io lo reputo assolutamente un prodotto quantomeno da provare perché veramente aiuta a chi ha dieta è veramente non fa bruciare lo stomaco posso fare solo un appunto a questo prodotto io lo preferirei amare io ma per il mio gusto personale io non apprezzo il dolce in generale accetto di collaborare con un'azienda ti dovrebbe far capire perché collaboro con pochissimi quando uno mi danno molta libertà di parola due mi danno libertà di opinione tre mi consentono perché non tutti consentono questo di condividere i prodotti che ricevo allora mi sono stati inviati tantissimi campioni in questo video faccio giveaway di una parte di questi campioni perché poi di altri prodotti zuccheri perderò in futuro in palio in questo video ci sono campioni di super coffee super ananas slim e super ananas per quanto mi riguarda il top di questi tre è super ananas slim ragazzi quando io prima di chiacchierare diciamo con con zuccheri io mi sono molto informata su questa azienda tutte le risposte che io ho ricevuto da soprattutto da un professionista che fa questo lavoro cioè che si occupa di case farmaceutiche non c'ho neanche pensato appena ho detto zuccheri ha cominciato a fare tra l'altro zuccheri che nome infelice per una ditta che fa cose dietetiche anyway andiamo avanti altri prodotti che io consiglio da utilizzare come quadri umanti alla dieta cioè nel senso non fanno mira tutto quello che ti sto dicendo non fa miracoli perché se non ti se non punti alla qualità del cibo piuttosto che alla quantità e non fai alcun tipo di attività fisica non fanno assolutamente niente bisogna avere un pochettino di costanza ma io lo dico sempre e bisogna soprattutto puntare alla qualità del cibo allora per avere la pancia piatta questa pancia piatta di cui ogni tanto si sente parlare ci sono diversi prodotti più o meno economici ti consiglio questo si chiama iris sono carboni attivi però in questi carboni attivi allora carbone vegetale semi di finocchio melissa in foglie finocchio frutto anice verde frutto scorza di limone coriandolo frutto ho preso questo perché la signora amata dell'erboristeria mi ha consigliato questo l'ho presa ti devo dire che oggettivamente fa il suo lavoro io ho sempre comprato i carboni attivi ne trovi di mille marchi e mille prezzi ma ti devo dire che questo che di base è un carbone attivo mi ha aiutato tanto perché proprio per una questione di stress io abito di parlare i miei fatti personali nei miei video ma per una questione di stress io ho avuto una serie di ripercussioni fisiche e questo mi ha aiutato sì ne vale la pena sì assolutamente costa 7,50 euro c'è scritto posso trovare in erboristeria prodotti zuccheri in farmacia sia questo qua che della specchia sol che i prodotti zuccheri non contengono utile sempre per il pancino piatto stiamo andando in ordine decrescente di di prezzo per il pancino piatto il finocchio aiuta tanto degli infusi e delle tisane al finocchio aiutano tanto ti voglio consigliare questa che ho trovato migliore rispetto a quella della vivi verde coop che ora dovevi passare della vivi verde coop che costa circa 2 euro questa costa sui 4 euro 4,50 euro non c'è scritto il prezzo ma siamo lì come prezzo te la faccio vedere meglio questa la trovo da natura sì mi piace mi piace tanto fa quello che promette tutti i prodotti che ti sto mostrando fanno assolutamente quello che promettono e come dico spesso nei video provare per credere perché poi alla fine chi prova mi dice adoro questa tisana allora è della balberbe caffè verde ananas vedi caffè verde è un altro ottimo prodotto per chi ha dieta aiuta molto il metabolismo caffè verde ananas te verde e zenzero e contiene te verde stranamente non mi fa male perché a me te verde fa molto male molto però questa non mi fa male anche questo trovo natura sì sai perché mi piace perché sa di ananas io però mi sto ma però in realtà è che a me piace molto l'ananas non ne ho mai fatto segreto sto prendendo assurendo l'ananas in tutte le forme e dirai tu per esempio prodotti e ti devo dire che questi prodotti infatti mi hanno aiutato ma poi contengono pure altre cose come questo per esempio contiene altre non contiene solo ananas contiene te verde e zenzero fantastica non è per niente forte come sapore non è brutto come sapore perché se ne ha delle ananti a me non piacciono come sapore deve essere sincera sta di ananas è buono molto dedicato è però molto molto dedicato te la stra 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 consiglio 4 euro sì sempre sui 4 euro sono quelli prezzi alle tisane da natura sì da natura sì ottimo prodotto l'ultimo di cui ti voglio parlare è molto economico molto efficace l'ho già mostrato in in altri video quando ho fatto l'acqua detox di gillian michaels da qualche parte ci sarà già il la scheda con il link si era un po più più rotondetta è questo il mi viene in inglese ma devo dire in italiano che è il tarassaco tisano al tarassaco della clipper 2 euro e 70 facciamo 3 euro della clipper anche qua provare per credere posso dire una prolaccia viene una picciolella eccezionale eccezionale veramente un prodotto che tu dici è solo tarassaco sì 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 il tarassaco allora tarassaco tè verde caffè verde e ananas quasi tutto quello di cui ti ho parlato in realtà puoi trovare anche le capsule io sinceramente preferisco bere tisane ma perché mi piacciono di più a gusto tutte quelle che ti ho mostrato sono buone calde fredde con il ghiaccio non mi piacciono ad eccezione sembra che io perché zuccheri no perché mi piace super coffee super coffee con due combetti di ghiaccio lo posso bere pure a mio marito e io non sapeva che ero integrato all'alimentamento ma sai che è buono sto caffè freddo che ci ha messo segreto è molto buono contiene ginseng veramente buono se dovessi fare in conclusione una piccola daily routine su come assumere questi prodotti mai nella stessa giornata cominciamo mattina super coffee da veramente molta energia metà mattinata questa caffè verde zenzero e cose dopo pranzo super ananas e dopo pranzo cioè dopo tutti i pasti iris mi sembra un'invasata dopo cena finocchio non li assumo tutta la stessa giornata una volta una volta l'altro per settimane niente quindi non non cerchiamo io spero che questo video ti sia risultato utile ti sia servito come spunti se hai dei consigli come al solito scriviti tra i commenti o mandami un messaggio privato fa lo stesso ciao e che le stelle siano con voi